I carabinieri del nucleo operativo ecologico di Salerno hanno denunciato quattro persone e svolto due sequestri. A Dorria i militari del Nove hanno riscontrato uno stoccaggio illecito di rifiuti speciali pericolosi e non. All'interno di un appezzamento sono stati deferiti in stato di libertà tre soggetti, tra cui il legale rappresentante di una legale impresa operante del settore edilizio, che dovranno rispondere di attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Inoltre hanno sottoposto a sequestro un autocarro e l'appezzamento ubicato in località Eccas e Mattatoio, su cui erano stoccate rifiuti speciali. A Deboli è stato ispezionato un impianto adibito a rimessa ed autolavaggio, accertando che il responsabile effettuava lo scarico in rete fognare delle acque e reflue industriali in assenza di autorizzazione. I giudici per le indagini preliminari ha emesso un decreto di sequestro preventivo dei locali. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Salerno e Vallo della Lucania. Grazie a tutti.